ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo video per il best buy gaming di aprile vediamo i prodotti più interessanti di questo mese allora partiamo intanto con una prima configurazione che è un hollow g2 ventus in promozione a 1599 configurazione con i5 10600k 16 gb ssd e rtx 3060 ti della msi configurazione wifi integrata come potete vedere questa è layout la case molto bella attualmente in promozione 1599 il secondo prodotto è sempre un g2 ventus in questo caso è una versione potenziata la pro a 1999 euro con i5 dodicesima generazione sempre k 16 gb ssd da un terra e in questo caso è montata una rtx 3070 ti raffreddamento a liquido il case è questo con doppia ventola subito disponibile lo trovate sempre sul sito a 1 999 attualmente l'ultima da segnalare è un g2 one shot che potete vedere qua lo trovate accanto a me è una configurazione da 2399 euro e monta un ryzen 5 5600 x 16 gb di ram ssd da 500 gb e rtx 3070 ti in questo caso questa qui è veramente molto bella vi segnalo anche altre promozioni attive per questo mese molto interessanti una serie gaming sharkoon sgs2 la trovate in omaggio quindi la riceverete insieme al computer direttamente a casa vostra in omaggio per configurazioni o pc già presenti sul sito da 2.149 euro l'ultima da segnalare veramente molto molto interessante è il tasso 0 tasso 0 a partire da 500 euro per tutto il mese corrente quindi per tutto aprile facciamo il tasso 0 per 10 date da 500 euro quindi veramente molto interessante specialmente per configurazioni come queste potete anche dilazionare il pagamento con zero interessi